sono bernardo la fonte del pomodoro studio edizioni musicali sono lieto di presentarti un'opera unica nel suo genere in un'offerta promozionale esclusiva l'enciclopedia della danza come imparare a ballare divertendosi un corso di ballo per tutti con i migliori maestri della danza il corso è diviso in due volumi il volume 1 tratta i passi basse semplici del buchi della samba del cha 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 della salsa cubana dello slow fox del ballo da sala e del liscio unificato il volume 2 è un corso più avanzato e tratta la disco dance la salsa in rueda il ballo standard il ballo da sala il liscio unificato il liscio piemontese e il ballo sociale ogni volume contiene il dvd delle lezioni e il cd delle canzoni usate da maestri per le lezioni con soli 45 euro comprese le spese per la spedizione avrai i due volumi dell'enciclopedia della danza e il cd percussionando bailando con ritmi per lo studio dello standard del ballo liscio e ballo da sala ordina subito a pomodoro studio con una mail pomodorostudio chiocciola pomodorostudio.it o per telefono 0 7 6 1 60 84 67 cellulare 328 15 9 33 11 il nostro sito www.pomodorostudio.it grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione Grazie a tutti.